Buongiornissima ragazzi e ragazzi dopo una notte insonne perché Daniel vi giuro ha pianguto Stavo dicendo, mio Dio, mio Dio, non ce la posso fare, ha pianto tutta la notte E adesso sta qua e sta dormendo, quindi incrociamo le dita e speriamo di riuscire a fare questo video Voglio fare un video in cui faccio colazione con voi, come ho messo questo frontino Comunque mi sono appena svegliata e praticamente mi sono, cioè sono senza trucco, mi sono messa questo frontino Perché non so voi, ma io odio mangiare con i capelli davanti agli occhi e mi dà pure fastidio quando vedo gli altri Quindi vabbè, piccola parentesi delle mie ossessioni E voglio fare colazione con voi, rispondere a delle domande che vi ho chiesto su Instagram Mi avete fatto un sacco di domande, quindi vi risponderò alle domande E in più voglio far vedere qual è la mia colazione per rimettermi in forma Comunque dopo il parto sto amando questa colazione che adesso vi faccio vedere La sto facendo ogni giorno, quindi basta con corretti, pizzette e quant'altro Ma con questa colazione veramente piano piano sto cercando di perdere qualche chiletto però senza stress Quindi dopo il parto Iniziamo, adesso vi faccio vedere come la preparo E lasciatevi tanti like Allora, fare questi pancake è semplicissimo Basta mettere 80 grammi di preparato per pancake, come è scritto qua dietro Se sentite dei versetti è Daniel che è qui di fronte a me mentre io faccio la ricetta Eccolo qui, è qui Sulla altalenina Allora, è molto molto semplice, vi ripeto 80 grammi, questo più o meno è la porzione per una persona E poi regolatevi voi, potete anche conservare 80 grammi più il latte O metto questo qua, potete anche mettere l'acqua Poi andate a mescolare e vi vengono subito un impasto liscio e omogeneo Ecco qua ragazzi, basta mescolare Adesso io con una mano ci metto un po' Però vi giuro che non avete bisogno di frullare Non viene subito liscio e omogeneo senza grumi Non avete bisogno di aggiungere zucchero, lievito o nulla Sono già pronti, qua c'è Pupi che spera che qualcosa cada Ragazzi vedete l'impasto com'è liscio e omogeneo Adesso siamo pronti per andare a cuocerli Mettete una bella padella grande così, così ne fate di più contemporaneamente Ed in pochi minuti sono fatti Ragazzi vedete le ho messi nella padella Adesso li vado a girare pochi minuti e si sono fatti Padella bella calda, un filo di quest'olio spray dentro Ma anche senza niente non si attaccano questi qua E sono veramente fenomenali Perché in pochi minuti li fate, non dovete stare a pesare Non si attaccano, non vengono né duri né muo Vengono sempre perfetti Quindi perciò vi consiglio Non fare le bollicine, vedete Sono pronti da girare Vedete, e non si attaccano È una cosa fenomenale Eccoci, i nostri pancake sono pronti Eccoli qua Volevo fare tipo tutta la piramide, è bellissima Però vado un po' di fretta perché vi dico la verità C'ho l'ansia che il Daniele si possa svegliare Comunque sono bellissimi, super soffici e buonissime Veramente, io le adoro Non di me li sta consiglio Cioè anche così senza niente Sono troppo, troppo buonissime Anche io Adesso ci vado a mettere le creme Guardate qua quante ne ho Delle creme di food spring Vi giuro, queste qua Quante le ho consumate Questi sono tutti i battoli finiti Non sono riuscito a vedere Sono troppo, troppo buone Eccola qua Adesso la provo alla prossima a voi E Vi straconsiglio queste due creme Crema al cocco E crema al cioccolato Alla nocciola Sono proteiche Questa è la nuova ed è buonissima Ed è Quanto di più sano possiate mangiare Perché oltre ad essere Food spring Un marchio completamente naturale C'ha cose buone e sane Ma poi hanno anche pochi grassi Vedete 85% di zuccheri in meno Hanno pochi zuccheri e pochi grassi Quindi sono perfette da inserire In un programma di perdita di peso Comunque se volete stare in forma Ma comunque anche solo per la salute Non per forza per dimagrire Perché veramente Contengono ingredienti naturali E sono veramente veramente buone Quindi senza zuccheri grassi Tutte quelle schifezze Che normalmente contengono E vi giuro il sapore è veramente buono Quindi io mi trovo da Dio Cioè se non ci fossero queste qua Io non so come fare colazione Perché veramente uno poi Sarebbe incentivato a comprare quelle là Comunque che fanno male Invece queste sono veramente Hanno un sapore molto molto simile Cioè raga Raga ditemi come sono queste creme Questa è quella alla nocciola E il cacao Ditemi cosa sembra E vi giuro che è molto molto più buona Anche E questa è la nuova al cocco Ragazzi hanno un profumo Questa al cocco fa un profumo buonissimo Vi lascio il mio codice sconto Ancora prima di iniziare a mangiare Insomma Perché poi mi dimentico Che Carlita Y Con questo codice sconto Avrete uno sconto del 15% Su tutto il sito FoodSpring Io vi consiglio I pancake Le due creme al cocco Fatene scorto Questa ne prendo 4-5 barattoni insieme Inserite il codice sconto Rispargate Comunque Qualsiasi cosa Il sito FoodSpring ha provato da me Perché ho provato praticamente di tutto Ed è tutto buonissimo Quindi Usate il mio codice Adesso vado a prendere le vostre domande Ragazzi come adoro questa colazione Non potete Cioè mi sveglio già C'è Daniele che fa i versettini Un crash Ragazzi Lasciatemi tanti like Non so neanche più parlare Anche se le mischiate Sono wow 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 Mamma Cresci presto Che poi le mangi anche tu Maronna Che meraviglia Guardate che meraviglia Adoro Io mi faccio così Guardate Ma no Sono troppo furba Si mescola Cocco E nocciola Allora C'è La regina del mare Che mi chiede Ha avuto un parto cesareo O naturale Sto leggendo le vostre domande Su Instagram Se avete altre domande Lasciate nei commenti Anche richieste di video Buonissima Andandole insieme Sono ancora più Sembrava qualcosa Di super pocelloso Ma non lo è Giuro che è fitta Allora Io ho avuto un parto naturale Però Con abbastanza complicazioni Infatti Io volevo parlare un po' del mio parto Perché è una cosa che mi chiede tentante E magari approfitto anche in questo video Per parlarvene un po' Però Cioè Molte persone A cui ho chiesto questa cosa Perché davvero è difficile Una scelta difficile Perché Molte di voi Mi dite Io voglio sapere la verità Com'è andata Però non voglio traumatizzare Tutte le persone Che a me dicevano Com'era andato il loro parto Mi dicevano Ah vado a passeggiare Due spinte Non ti preoccupare Dolore lo dimentichi subito Appena te lo mettono Fra le braccia Questa è la Cazzata più grande Scusatemi Quando ho incontrato Con le persone O comunque Ce l'ho parlato Ho detto Ma cosa ti dovevo dire Tu dovevi andare a partorire Io cosa ti dovevo dire Allora io Ho capito Che le donne Sono bugiarde Quando parlano del parto E quindi Io non voglio essere L'unica sincera Alla situazione Che vi sconvolge Quindi non so Se dirvi Balle anche io Oppure dirvi la verità Non lo so Però vedo che nessuno C'è raro trovare una donna Che dice la verità Su suo parto Col tempo lo dimentichi Infatti adesso Ho partito da 20 giorni Quasi Quasi un mese Comunque Allora è vero Che lo dimentichi Adesso Cioè io Guardo lui E non mi ricerca nulla Del dolore Che ho sentito È vero Lo dimentichi Però Da qua dire Ah col parto naturale Io la sera stessa Mi sono alzata dal letto E sono andata a cena fuori Cioè chi ti dice Il dolore Lo dimentichi Quando te lo metto Dal braccio Queste cose qua Per me non sono state vere Perché io veramente Per riprendermi Ci sono venuti Tanti tanti giorni Per i primi giorni Io non riuscivo A alzarmi dal letto Perché Il posto parto È veramente Traumatizzante Cioè io E poi era difficile Perché comunque Lo dovevo allattare Io non ce la facevo Neanche a mantenerlo In braccio Per dirvi Se volevo alzarmi Dal letto Svenivo Praticamente Perché non mi Cioè Mi sentivo molla Non so come spiegarvi Comunque Questo giallo Ti spiega via Però Mi fanno morire Quelle che dicono così Guarda Fare fare l'asilo nido A Daniel Allora Almeno non so Ma sta cosa Dell'asilo Dell'età Quali anno Vanno in una scuola Quali altro Sono un po' ignorante Da questo punto di vista Però io Voglio mandarlo a scuola Però Avendo io la fortuna Di riuscire comunque Io a lavorare Comunque da casa Degli orari Che mi gestisco io Comunque Cioè Lo voglio tenere con me Il più possibile Però comunque Sono favoribile A mandarlo a scuola Per iniziare a socializzare Ocetera Adesso il piccolo Io l'ho preso Allora Come essere mamma Allora Allora Non è fatta e poi procedo Ragazzi Mi sto consolando Con queste creme Vi giuro Procedo sempre a fare Il doppio accoppiamento Che secondo me È wow Poi dopo Così me ne faccio Una singola Perché voglia di sentire Il cocco Questa qua Il cocco Ma lo Dovete credere Questa è la nutella Questa al cocco Sembra Quelle creme Avete presente Porcellose Che vi mettono Quando andate alle bakery Ragazzi Piggiatevele Piggiatevene tante Perché vanno sempre A rubare Su FoodSpring Perché Ogni volta che vi mostro qualcosa Subito va sold out Quindi fate in fretta Poi spammate Anche con il codice sconto Comunque Ah come essere mamma Essere mamma È un po' Impegnativo È un po' Destabilizzante Ed è un po' Cioè Fa venire fuori Della te Del carattere Di te Che tu nemmeno Immaginavi di avere Ossia Ansie Io per esempio Sono una persona Sempre stata molto Tranquilla Positiva Però con lui Non mi vengono Queste preoccupazioni Queste ansie Poi Il fatto di non dormire La notte Ragazzi È traumatizzante Lui adesso Sta iniziando A avere le colichette Quindi Non dorme Piange Dopo mangiato È pesante Però È bello Come tutte le cose Belle Ci sono sacrifici Da fare Però poi Ti ripagano Allora Daniel Mi saluti Siete una famiglia D'oro Ciao Sara Ti mando un bacio Allora Daniel Ma non sono capiccio Perché lui comunque È piccolo Non c'ha neanche un mese Non sono capiccio È proprio poverino Che Cioè Sono sensazioni Tipo quando ha fame Piange Perché È l'istinto Cioè È questa sensazione di fame Che lui ha E quindi L'unico modo di comunicare È quello Come anche quando ha le colichette Poverino Cioè Lui si torce Mi fa proprio male Quindi non è Non sono capicci Cioè Non è capiccioso Anche Quando piangono Che ti vogliono Vedere in braccio Non sono capiccio Semplicemente che loro Amano il contatto Con la pelle Quindi quelle Vengono sentire il profumo Il tepore Ma non Non sono È presso È presso Per parlare di È presso Che cacchio sto dicendo Ragazzi Vabbè C'ho tipo 20 giorni Di notti Di non dormo È presso Per parlare Di vizi Capricci Cioè Questo voglio dire Sono ancora istinti A volte loro pensano Ancora di stare Nella pancia Cioè Quindi Non sono vizi Ecco Velovo Vengono dire Poi Ehm Ma meglio Con i punti Che ti hanno dato Ecco appunto Quindi Mook Beg Tutto Incentrato Sul Sul Parto Adesso ne mangio Una Con questa Le separo E' un'altra Quella Madonna Ma sono buoni Ma questa è la mia colazione Super Soffice Preferita Allora Sì ragazze Va meglio Considerate che Io ho sofferto Tantissimo Per i punti Che mi hanno dato Appunto Non sto parlando Di Sto parlando Che ho avuto Un parto naturale Quindi punti Avete capito E Ho sofferto Tantissimo Ma adesso Non voglio Perché non so Sto video Lo vedono Anche i maschi Lo vedete Magari Interessato Ai pancake Che cosa Però Ho un po' Fetto I punti E le morloide Tutto In quella Zona Lì Febio Beh giuro Sono stata 15 giorni Malissimo Adesso Invece Sta passando Sono ancora Bonfio Ancora Però Molto Molto Meglio Diciamo che 15 giorni Te li fai Oh cesare È naturale Sono una chiavica Praticamente Però adesso Sono molto Molto Adesso mi godo Anche di più Lui Che Sto anche meglio No Perché prima Non ce la facevo Cioè io Dal letto Lo dovevo prendere Come mi muovevo Ah Mi tirava sotto Quindi Invece adesso Si è molto meglio Grazie Valentina Per avermi chiesto Mando un bacio grande Comunque ragazzi Noi donne Cioè mamme Siamo delle supereroine Da qui non ci piove Cioè Credetemi Cioè Partorire Un'impresa Super mega galattica Cioè Una cosa che Non so Siamo veramente Molto molto superiori Agli uomini Eh Gli uomini Non mi odiate Però è vero Cioè La gana Se non ancora Se ci penso C'è un bilitero Vabbè Meglio che non ci pensi Allora Questa cosa è troppo divertente Ve la devo dire Questa ragazza mi ha chiesto Medio cesare o naturale Adesso vi leggo un commento Anzi no Nel senso che mi metto a cercarlo Ma me lo ricordo Di questa ragazza Mi disse Ciao Carlita Io perché io su Instagram Ho accennato qualcosina Ma qualcosina Del mio parto Dicendo che comunque Era stato La verità Era stato traumatizzante Era stato doloroso Come a tutte le donne Che più che meno Ragazzi mi sto scofanando Tutti i banchetti Adesso qua Ci metto la prima al cocco E Buona Buona Vado Qua ci sono proprio Pezzetti di cocco Dentro Cioè Non so se riuscite a vedere Ci sono proprio Pezzetti di cocco È buonissima Comunque Scusate E lei mi disse Carlita Ciao Io devo partorire E Sentendo la tua esperienza Del parto naturale Mi sono prenotata Il cesario Grazie mille Perché grazie a te Adesso farò il cesario Non farò il naturale Perché Era Da quanto ho capitato Io Una soglia di dolore Bassissima E quindi ho detto No meglio il cesario Ciao Mi sono sentita No Una Non so come dirvi Una responsabilità Su una cosa Così delicata Adesso vabbè Influencer Che adesso Il termine nuovo Per definirci Influencer Prima youtuber Poi blogger Adesso siamo Influencer Ed è vero Perché vi influenzo Sui prodotti Di food Spring Ad esempio Prodotti per stare in forma Vi influenzo Su prodotti Di cosmetici Su mio shop online Vi influenzo Vi posso influenzare Anche Su cosa mangiare Vi posso influenzare Anche su dove andare a mangiare Che molto spesso Un ristorante Una pizzeria Su cosa indossare Però Sto fatto del parto Vi giuro Mi mette Ansia Mi dà Un senso di responsabilità Troppo troppo grande Adesso mi sento Una responsabilità All'uso Lei Non abbiamo mai parlato In privato Io in questa ragazza Quindi Lei non mi ha chiesto Tu cosa mi consigli Perché io non le avrei mai Detto Ti consiglio questo Quello Semplicemente Lei guardando Le mie storie Ha fatto questa deduzione E si è prenotata Del cesareo Ho detto Oh mio dio Non ma io non vi voglio Influenzare su questa cosa Dovete essere voi Liberi di scegliere Cosa fare Soprattutto di affidarvi Al ginecologo E alle persone Che vi seguono Ma anche perché Allora Il parto è una cosa Soggettiva Ragazzi Quindi voglio dire Anche Anche da persona Cioè la stessa persona Anche io Se faccio dieci figli Nessun parto è uguale All'altro Quindi Più guardate come può essere Uguale il mio parto Al tuo O quello di un'altra donna Poi Io non ho mai provato il cesareo Perché ho avuto solo un figlio Quindi io non ti posso dire il cesareo Ma anche sul cesareo Cioè leggo e sento Da amiche Cose delle storie Pesanti Comunque anche il cesareo Il post Il post parto È traumatizzante Quindi voglio dire Io il consiglio Che vi posso dare No Tanti di voi Dicono Se tornassi indietro Che fareste Allora Io Quando ho partorito lui La sera stessa Che io stavo Tipo L'avevo tipo drogata Stavo tipo su un altro pianeta Vabbè Ci ho messo un giorno Per capire Che cosa era successo Vabbè Io No Oh mio dio Non sparate che Dario dorme Vabbè Qua è il capodanno In anticipo Comunque Io Dicevo Raga Ma chi mi aveva fatto fare No L'ha perso il cesareo Cesareo Quando mai No Quindi Per i primi giorni Questo ho pensato Ditto No no Io non farò mai Un altro figlio Ma se dovesse succedere Farò il cesareo Tornassi indietro Fare il cesareo Però Sempre perché cesareo Non l'ho provato Se l'avessi provato Da sempre Che avrei detto no Meglio naturale Quindi questo è E' la cosa L'esperienza Però adesso Dopo quasi un mese Vi devo dire La verità Forse tornassi indietro Farei Non farei Il cesareo Per naturale Perché poi Sono contenta Del fatto Di non avere La cicatrice Sono contenta Del fatto Che la pancia Man mano Sta scomparendo Non so Mi piace comunque Essere riuscita A superare Questa cosa E io il consiglio Che posso dare A ragazze Di stare tranquille Perché una maniera Un'altra Sto bimbo deve uscire Quindi stare tranquillo Con una maniera Un'altra Il bimbo esce Affidatevi A dei specialisti Ginecologi O estetiche Affidatevi a loro Perché io dico sempre Che non ho partorito Da sola Ma ho partorito A Siva Il mio ginecologo Cioè lui Ha partorito con me Se non ci fosse stato lui Io non so Come avrei fatto E anche l'ostetica Tutto è personale Con tutto che mi hanno ucciso E mi hanno fatto stare male Però La fine è nata Sta bene Quindi ok Tutto a posto E quindi io vi dico Affidatevi alla natura State serene Perché veramente Il parto Non deve essere una cosa Che vi deve preoccupare Perché una maniera Un'altra Va Partoriscono migliaia di donne Pensate solo questo Che migliaia di donne Lo fanno Ogni giorno Anche adesso Ci sono centinaia di donne Che stanno partorendo Quindi è una cosa Più naturale del mondo Quindi In un modo o in un altro Esce Noi siamo fatte per Per provarlo Questa sofferenza E questo dolore Ce la possiamo fare E niente Affidatevi alla natura Come va Io così Ho sempre pensato Se va Con il naturale Va Fa Fui menti Qua Il cesario Daniele avanti Intendo nel senso Tipo girare la testa Significa Vabbè Poi Tutto sopparto Ha fatto male Partorire Diciamo che Uscire a mangiare Una pizza Sarebbe stato meglio Hai fatto il cesario Il naturale Ti amo Mi sape tu sono Carla Ciao Carla Ti mando un bacio Allora Come fa a gestire il suono Questo è bellissimo Dopo la nascita del bimbo Io amo dormire Anche io Io amo moltissimo dormire E soprattutto Prima avevo questa cosa Io Che se ne svegliavo Durante la notte Io non riuscivo più a dormire Invece Credetemi ragazzi Anche in questo Cambia Vi abituate Stanotte mi è sempre stata Un'altra durissima Dove veramente lui ha pianto Se non tutta la notte Ma quasi Veramente tutta la notte Importantissimo Per una persona Che vi aiuta Io ad esempio Dario Che è molto molto responsabile Molto attivo In questo Mi ha aiutato tantissimo Infatti Ci alterniamo Durante la notte Questo è fondamentale Chiedere aiuto E farvi aiutare E poi Vi dico Che tipo la notte Se lui si sveglio Mi sveglio Mi sveglio tante volte Durante la notte Poi mi addormento subito In 5 minuti Cosa che prima Non sarebbe mai successa E Quindi cambia Ce la si fa Sempre stanotte è stata così Però poi ci sono anche Altre notte In cui ci svegliamo Solo per Per farlo mangiare E poi ce li addormentiamo Quindi sono molto più Tranquille Dicono dormire Quando lui dorme Ma per me questa cosa Non funziona Perché ad esempio Adesso Lui sta dormendo Ma non posso Mettermi a dormire Perché io devo sfruttare Questo tempo in cui lui dorme Per fare le cose Per fare il video Per controllare gli ordini Che fate Sul mio shop online Per gestire il mio lavoro Da influencer E da youtuber Eccetera E tutto E per gestire anche La casa No? Nel senso Quando lui dorme Mi organizzo La cena La spesa Tutto questo Se io dormissi Quando lui dorme Non so Come potrei fare Comunque ragazzi Non ce la faccio più a mangiare Sto veramente scoppiando Mi sento sazia E la cosa Di questi prodotti Che ti saziano Perché sono veramente Ricchi di nutrienti Anche se sono light Quindi ve li straconsiglio Andate sul sito Foodspring Codice sconto Talita YT E fatemi sapere Nei commenti Se vorreste Un altro video Mucco O un video generale In cui vi parlo Del parto Però Abbostra Come si dice Cioè Non voglio traumatizzarvi Però voi Vorrei essere sincera Quindi fatemi sapere Voi cosa ne pensate Lasciate tanti like Vi mando un bacio Ciao Adesso devo far mandare Lui Ciao